Buona giornata a tutti voi, sono Adriano Spadaro per l'Antidiplomatico e oggi parleremo di referendum contro l'invio di armi in Ucraina e di censura. Vi presento i nostri ospiti, il regista Michelangelo Severnini, il professore Uga Mattei e il professore Enza Pennetta. Dopo una settimana di chiusura totale del nostro canale YouTube per la pubblicazione del docufilm Referendum, possiamo tornare finalmente operativi e abbiamo scelto di avere qui, insieme a noi, i protagonisti del film prodotto dall'Antidiplomatico. Pennetta e Mattei rappresentano i due comitati che stanno promuovendo i due rispettivi quesiti, molto simili tra di loro in realtà. Vorrei intanto chiedere al professore Ugo Mattei il perché dei due quesiti e dei due comitati, come sta andando la raccolta firme e cosa possiamo fare per sostenere il referendum. Dobbiamo calcolare di avere circa 45-48 giorni utili, quindi un po' più di un mese e mezzo da questo momento. Le realtà che si stanno attivando sul territorio, per quanto posso dire io, noi abbiamo messo a disposizione e sono a disposizione sul sito di Generazioni Future, tutti i moduli scaricabili e dopodiché ci sono due diverse politiche dei diversi comitati che poi per come si raccolgono questi moduli. Per quanto riguarda il Comitato di Generazioni Future, poi tra un secondo vi dico le ragioni, anche la forza del fatto di essere due diversi comitati piuttosto che uno solo, per quanto riguarda Generazioni Future, noi incoraggiamo le persone a mettersi in contatto sul sito, di mettersi a disposizione, dopodiché le cerchiamo rapidamente e le mettiamo in collegamento con quelle che sono le realtà che già stanno raccogliendo. Favoriamo anche molto il fatto che poche persone, magari si mettano insieme, due, tre, quattro, cinque amici, si trovino un certificatore, e vadano a raccogliere le firme nelle proprie realtà territoriali. L'unica cosa che chiediamo è che poi queste firme vengano riconsegnate centralmente a un indirizzo che daremo e noi verifichiamo che la documentazione sia appropriata e corretta per poi poterle far arrivare alla Corte di Cassazione per il controllo. Il sistema per il momento sta funzionando in modo abbastanza smooth, nonostante ci siano tantissimi abusi da parte di comuni che fanno finta di non aver ricevuto i moduli, che mettono i bastoni fra le ruote in vario modo, ci sono diversi comuni che chiedono soldi per poter aprire i banchetti referendari, insomma ci sono tutte le solite strategie per rendere difficile, ancora più difficile una raccolta di firme che di per sé ha delle sue difficoltà. Non di meno tutto quello che riguarda la messa all'ordine del giorno di una discussione sulla guerra, perlomeno a livello di persone per la strada, che incontrano i banchetti referendari e ne parlano, sta piano piano succedendo, ci sono realtà politiche strutturate che stanno partiranno nei prossimi giorni, per esempio di stamattina la notizia ufficiale che il partito Democrazia Popolare, che come sapete mette insieme rifondazione comunista, potere al popolo e non so più chi altri, sotto leggi della leadership di Luigi De Magistris, incomincia col 2 di giugno a raccogliere le firme referendarie. E questo naturalmente è un'organizzazione che, essendo un'organizzazione di partito con una certa età, perché comunque rifondazione esiste da molto tempo ed è radicata sul territorio, noi pensiamo che possa fare un ottimo lavoro. Parimenti invece, passando dal vecchio al più giovane, il gruppo che fa capo al Alessandro Di Battista, che si chiama Schierarsi, che ha comunque già oggi 5.000 militanti molto entusiasti ed attivi, perché come sempre avviene quando un gruppo parte ex novo e c'è una certa, come dire, c'è dell'entusiasmo, anche loro stanno piano piano, anzi anche abbastanza rapidamente, integrando il numero delle persone che si stanno dando da fare per la raccolta. Quindi questa, secondo me, è una raccolta che va a crescere. D'altra parte, noi non abbiamo potuto fare diverso che non partire con i nostri comitati cercando di coinvolgere in modo aperto più realtà possibile. Noi siamo partiti con una lista sostanzialmente di intellettuali. Pennetta è partito con un gruppo di giuristica, scritto i quesiti. Ma, insomma, sostanzialmente la campagna referendaria è unitaria, si chiama Italia per la pace, è fatta di due quesiti. Un quesito di immediato effetto, che è quello relativo all'Ucraina, che è sostenuto da generazioni future, e un altro quesito che ha un effetto, diciamo, più generale, nel senso che impedirebbe, non soltanto per questa volta, ma anche pro futuro, operazioni arbitrarie, quelle che sono state fatte nel vendere armi in terreni di guerra, che è portato avanti da ripudio alla guerra. Sono due quesiti assolutamente complementari. Questo Pennetta lo dirà, e quindi è molto importante, diciamo, che chi si attiva si attivi quantomeno per questi due quesiti. Poi, Generazioni Futura ha presentato anche un quesito di natura che ha due ragioni principali. Una maggiormente politica, per indicare sostanzialmente che gli italiani preferirebbero spendere i soldi per la sanità pubblica, piuttosto che per le armi e per gli arsenali, ma anche per toccare la questione molto spinosa del conflitto d'interesse della sanità, quesito che è, dal punto di vista, diciamo, dell'ammissibilità costituzionale, è il più sicuro di tutti, perché non comporta nessuna delle criticità che potrebbero essere eventualmente sollevate per gli altri. Ecco, questo qui, invece, lo sostiene soltanto GenerazioniFuture.org. Noi, comunque, nel sito di Generazioni Futura abbiamo tutti e tre quesiti scaricabili, abbiamo tutte e tre la possibilità di firmare online, direttamente, cliccando firma adesso, di cliccare e firmare subito col sistema della firma digitale, che è una possibilità in più che c'è, che, devo dire, per il momento non sta dando risultati entusiasmanti. Speriamo che possa andare, che la gente magari aspetta l'ultimo momento per firmare online, considerato che preferisce come è normale che sia, anche perché c'è un piccolo costo a firmare online, magari vedere se riesce a firmare diversamente prima, ma la possibilità di firmare online è ovviamente una possibilità da sfruttare particolarmente, soprattutto se riusciremo ad avere, come dire, una fase di crescita importante di qui in avanti. Servirà, naturalmente, molto puntare su questa cosa della censura. Dovremmo fare sicuramente delle azioni clamorose di qualche tipo per conquistare qualche tipo di visibilità mediatica, perché il timore è che se li lasciamo fare come vogliono, ci oscurano completamente, poi alla fine ce ne danno un po' per dire che non sono riusciti a raccogliere le firme. E questa sarebbe davvero una catastrofe. Professor Pennetta, perché oggi, nonostante l'enorme pericolo che corriamo di scivolare da un momento all'altro in una guerra nucleare, non vediamo nessun movimento popolare affrontare i propri governi e chiedere di disimpegnarsi dalla follia ucraina? Tanto per cominciare, è un caso abbastanza singolare in cui maggioranza e opposizione sono entrambi contrari. Normalmente, magari uno poteva fare affidamento sul fatto che l'opposizione fosse solo per rompere le scatole della maggioranza, poteva cavalcare delle istanze, un referendum, che potesse mettere in difficoltà la maggioranza stessa. Ci troviamo a questo caso più unico che raro, nel quale l'intero Parlamento è invece in qualche modo schierato su questa posizione, perché sì, prima si nominava l'ex Cinque Stelle di Battista, ma il Movimento Cinque Stelle è quantomeno ambiguo su questa faccenda, che è l'unico che poteva un po' schierarsi. Quindi intanto paghiamo questa uniformità che poi si manifesta con il silenzio. Quindi non c'è nessuno che porti, persone invitate in tv, in dibattiti, anche sulla guerra, non c'è nessuno che poi parli del referendum. Perché? Perché in realtà è scomodo per tutti, quindi l'ideale è che non se ne parli. E hanno ragione, perché invece vediamo le persone che si fermano per strada, che non sanno assolutamente nulla, perché questo è il vero problema. Perché io credo che l'80-90% vede il banchetto per le firme e si domanda che cosa sia questa roba, e glielo si deve spiegare da zero. Beh, ecco, ciò nonostante, molti che conoscono in quel momento, poi alla fine aderiscono e firmano. Ecco, immaginiamo cosa potrebbe essere se invece lo sapessero già uscendo di casa che esiste questo referendum, magari andrebbero anche a cercarlo. Quindi ecco, questo silenzio è evidentemente uno dei grossi ostacoli che sono stati buttati in mezzo ai piedi, non molto, molto evidentemente, volontariamente e consapevolmente che dobbiamo scavalcare. Riguardo poi, ecco, le manifestazioni, purtroppo credo che poi ci sia da considerare anche una frammentazione, diciamo, dei movimenti di dissenso, ma non solo pacifisti e così via, che purtroppo poi alla fine potrebbero in molti casi pensare più al proprio campanile che all'obiettivo generale. Qua di fronte al fermare la guerra in Ucraina deve essere un'adesione di massa. Oltretutto, voglio aggiungere, già il fatto stesso di essere due comitati, di non essere sotto bandiera politica, ecco, era fatto proprio per aggregare elementi il più diversi possibile, no? Cioè, è proprio una questione di aggregazione intorno appunto a un qualcosa che non ha una bandiera, per cui ecco, certi personalismi, certe divisioni sono ancora meno giustificabili. Però, insomma, vedo, riunioni in cui si parla di pace, come ce n'è stata fra l'altro una Roma qua qualche giorno fa, e poi di fronte all'idea, ah bene, quindi il referendum, no, è su quello, non c'è poi un pronunciamento chiaro a favore della firma. Ma queste saranno le analisi secondo me che andranno fatte poi a un certo punto su certe dinamiche, no, interne. Ma del resto noi ci rivolgiamo veramente a tutti, per cui bisogna raggiungere quelle persone, la persona, diciamo, più comune, no, che non ha particolari magari coinvolgimenti politici, movimenti, che capisce la gravità della situazione. Ecco, però se non ci fanno parlare e siamo qua a discutere di questo, perché appunto il docufembre di Severnini che viene bloccato, i giornali che tacciono, ecco, se non se ne parla, ecco, non riusciamo a raggiungere le persone. Come abbiamo detto in precedenza, i media ignorano o condannano chi esprima posizioni differenti rispetto al mantra aggredito aggressore. Molto semplice, lineare. Eppure accade anche che quando si esprime la propria opinione semplicemente si incorre in una vera e propria censura sui social, dove ormai passa la stragrande maggioranza della comunicazione tra persone. È il caso, in questione specifico, di referendum, il docufilm di Michelangelo Severnini che YouTube ha rimosso dal nostro canale in abbonamento dell'antidiplomatico. La giustificazione è che il docufilm mostrasse scene di contesti passati facendo credere allo spettatore che si trattasse in realtà di contesti recenti. Ma nonostante il ricorso presentato dall'antidiplomatico, a distanza di quasi dieci giorni ancora non si ottiene un verdetto, il che fa pensare che in realtà i motivi della censura siano tutti politici. Il film di Michelangelo ha diversi pregi, ma uno in particolare rompe effettivamente il vergognoso muro di omertà sui referendum che potrebbero e porterebbero effettivamente potrebbero portare al blocco di invio di armi al regime di Kiev. Severnini, lei come spiega questa censura? Guarda, innanzitutto vorrei condividere con voi una riflessione a partire da un paio di elementi che ho a disposizione. Il primo è che sul mio canale YouTube in questi giorni ho caricato a mia volta il documentario e non è visibile però perché si tratta di un link diciamo a un video non pubblico ad ogni modo l'algoritmo di YouTube non ha pensato di dover intervenire in questo momento quindi questo mi lascia pensare che non sia una questione di algoritmo. Come dicevi tu al tempo stesso è anche difficile pensare che con diciamo così finora il numero esiguo di abbonati al canale YouTube dell'antidiplomatico ci fosse quello che si era abbonato proprio per vedersi nottetempo il documentario segnalarlo e giungere quindi al blocco del documentario quindi mi pare che restino ben poche opzioni penso che qualcuno stava monitorando quello che stavamo facendo e penso che abbiano fatto siano giunti alla conclusione che questo che questo materiale non dovesse entrare in contatto con il pubblico e quindi non dovesse provocare o perlomeno contribuire a provocare quell'effetto valanga che nel caso del referendum di cui stiamo parlando sarà probabile a un certo punto e chiaramente noi tutti ci aspettiamo quindi dall'altro punto di vista devo anche devo anche dire che come appunto autore come regista del documentario non mi sorprende il fatto che ci sia stata una reazione di questo tipo anche se poi alla fine nel documentario non è che si raccontino cose che la gente non sa in realtà si racconta della campagna referendaria e si espongono dei punti di vista ci sono liberi cittadini che espongono le proprie opinioni che non sono chiaramente le opinioni che si sentono normalmente in tv nei giornali nel mainstream ma che rappresentano una grossa fetta di Italia che vuole contare e soprattutto vuole esprimere la propria opinione quindi da autore mi rendo conto che andare a rappresentare questa Italia che viene oscurata è chiaro che questo questo dà fastidio perché crea narrazione perché crea il punto di vista ti fa capire che ci sono delle persone che hanno un punto di vista diverso e si esprimono perché sono cittadini tanto quanto gli altri quindi chiaro loro mettono in campo queste armi noi abbiamo le nostre come una frase che vado ripetendo in questi giorni una citazione di Rosa Luxemburg che dice soltanto chi si muove e si rende conto delle proprie catene e quindi questa censura io la considero il suono di queste catene significa che ci stiamo muovendo che abbiamo una direzione che sappiamo dove vogliamo andare e quindi le catene hanno cominciato a produrre suono stanno facendo suono e questa è come io intento la censura chiaramente non penso che riusciranno a fermarci condivido condivido al cento per cento quello che ha detto Severnini chi censura dimostra soltanto di essere debole e spaventato il problema è che quando una censura è così strutturale è un sistema trasforma una democrazia in una vera e propria in una vera e propria dittatura del pensiero unico allora questo è il problema strutturale di questa cosa perché un po' di censura noi in Italia ce l'abbiamo sempre avuta questo mi sembra sul processo di censura più globale che locale forse anche un po' come dire subito imposto da soggetti esterni rispetto a quelle che sono le dinamiche e le logiche puramente politiche italiane e questo perché se ci pensate bene c'è i gruppi diciamo il gruppo editoriale più che si comporta nel modo più scandaloso di tutti è il gruppo Jedi che è come si sa bene un gruppo ormai controllato da una holding quella degli Elkan che ha grossi interessi degli Agnelli diciamo Elkan e poi dopo soltanto uno che si è sposato nella famiglia ma insomma che ha degli interessi che ha degli interessi globali molto forti ha degli interessamenti nell'Economist c'è di mezzo tutto un lavoro su Rolls Royce che sono a loro volta parte diciamo dei beneficiari della guerra quindi lì c'è proprio come dire una struttura azionaria che spiega questo atteggiamento di chiusura totale la televisione nazionale è incredibile perché perfino quando facemmo nel 2011 il referendum sull'acqua pubblica seppure non eravamo certo amati dal potere costituito in quel momento io ricordo che almeno su Rai News 24 si andava almeno una volta alla settimana capitava di andarci quindi le notizie venivano date certo non eravamo come dire nei grandi talk show ma eravamo comunque presenti in qualche modo adesso se uno va sul sito della Rai e scrive referendum non esce niente e questa è una cosa che fa veramente che fa veramente abbastanza impressione allora come superare tutto questo e questo è il grande punto nel senso se si riesce a fare una mobilitazione di popolo di qualche tipo quello su cui puntavamo diciamo con il referendum si può immaginare che si stabiliscano e si crescano altri canali di informazione di comunicazione che in qualche modo superano questa difficoltà bio blu l'antidiplomatico e il fatto quotidiano sono gli unici le uniche realtà che hanno preso posizione senza se senza ma sul referendum perché anche altri giornali oltre a quelli diciamo del blocco di potere che censura ma anche gli altri giornali che parlano parlano magari hanno parlato una volta del referendum ora in sei settimane quasi cinque settimane che stiamo raccogliendo le firme non basta fare una volta un'intervista sul referendum per poter essere considerati un giornale che fa una comunicazione obiettiva sullo stesso bisogna affrontarlo in modo serio bisogna discutere quelle che sono le questioni tematiche che sono in campo bisogna discutere i quesiti bisogna discutere le strategie comunicative insomma bisogna aprire una discussione democratica se si vuole essere un giornale pluralista da questo punto di vista e allora questo ancora non è successo vediamo se riusciamo a farlo succedere con le buone o con le cattive nelle prossime settimane posso dire un'ultima cosa che riguardo a un prodotto cioè come quello di Severgnini è un tipo di informazione che si è manifestata ma è particolarmente efficace io faccio spesso notare come il suo giro nelle sale cinematografiche dell'inverno scorso abbia sempre visto le sale piene mentre i film quelli di intrattenimento tradizionali sappiamo che le sale cinematografiche vanno in difficoltà e quindi è uno strumento molto interessante perché è chiaro che una narrazione fatta in maniera così artistica professionale ha una diciamo una sua valenza che non ha magari che ti posso dire appunto la trasmissione su YouTube tradizionale o l'articolo scritto e quindi questo qua è un'arma molto particolare che forse non per caso viene viene bloccata ma sulla quale bisognerà insistere ripeto perché sicuramente ha un'efficacia tutta propria e quindi questo documentario questo documentario insomma lo faremo si farà circolare in qualche modo in tutti i modi possibili e quello che potrebbe succedere mi auguro la situazione l'ha appena spiegata Mattei anche i giornali che si possono definire qualche volta sono un po' simpatizzanti magari un po' col contagocce sono stati un po' tirati io vorrei pensare una cosa se noi facciamo arrivare alle persone il messaggio che questa è una sfida mettiamo è una gara fra noi è fra virgolette il sistema il sistema ha deciso di silenziare noi diciamo vogliamo far vedere al sistema che non ci riesce per cui prendiamolo come una sfida personale a moltiplicare fra le persone che si conoscono a diffondere ciascuno diventi diffusore dell'iniziativa avete profili facebook avete profili instagram avete twitter quello che volete tiktok vi invito producete contenuti diventate voi stessi diffusori può essere anche messa in questo modo questo potrebbe darvi un fenomeno non lineare cioè con una crescita che non è una retta ma speriamo appunto che diventi una parabola allora in questo modo sicuramente si potrebbero fare grandi numeri crescenti nel tempo per cui insomma inviterei tutti quelli che ascoltano a diventare produttori di contenuti e vedere se riusciamo insomma questa volta a fargli un coso così al sistema se è possibile si possa aggiungere che è importante per tutti sostenere l'informazione libera come l'antidiplomatico che ringrazio molto di averci invitati e credo che valga la pena di ricordare che forse questa sera sul 262 del digitale terrestre andrà in onda il referendum di Michelangelo Severnini per chi lo vuole guardare su Pio Blu io volevo soltanto dire una cosa brevissima che noi ci troviamo ormai da anni all'interno di un'informazione di guerra questo è cioè in realtà io me ne sono accorto occupandomi ormai da diversi anni di Libia adesso non per entrare nei dettagli ma sulla Libia negli ultimi dieci anni è stata fatta una informazione di guerra perché la la miglior il miglior modo di vincere una guerra è quando nemmeno si comincia come fai a vincere senza cominciare una guerra perché riesci a raccontare le cose in maniera talmente capovolta che riesci a ottenere i tuoi obiettivi senza nemmeno estrarre diciamo la rivoltella e quindi sulla Libia è stata fatta una propaganda di guerra e quella in cui ci troviamo in questo momento sull'Ucraina a livello esponenziale è ancora di più una propaganda di guerra quindi io penso che fare resistenza oggi in Italia è semplicemente chiamare le cose con il loro nome questo è quello che dobbiamo fare questo è quello che cerca di fare sicuramente questa campagna referendaria questo è il motivo anche per cui io e noi dell'Antidiplomatico abbiamo deciso di spendere il secondo capitolo di questa saga lotte sociali appunto sulla soglia di un conflitto mondiale proprio per sostenere questa campagna che rappresenta tutti quanti noi bene io ringrazio i nostri ospiti per la disponibilità vi invito ad iscrivervi al canale youtube dell'Antidiplomatico e per il momento ad acquistare il docufilm referendum su Vimeo vi invito anche ad attivarvi per organizzare la raccolta firme nel vostro comune dei due quesiti referendari un abbraccio a tutti voi grazie a tutti